Buongiorno e bentornati nel canale di Officine Varisco. Oggi risponderemo alla domanda perché fare le manutenzioni agli scambiatori di calore, quando fare le manutenzioni e da chi devono essere fatte. Diciamo innanzitutto che uno scambiatore di calore è un apparecchiatura particolare. E' spesso soggetta al controllo di enti esterni e la sua durata è calcolata per durare almeno 10 anni. E' però soggetta a incrostazioni che ne possono ridurre sensibilmente lo scambio. Pertanto dovremmo procedere abbastanza con una periodicità stretta che può andare da sei mesi ad un anno a una pulizia dei tubi interna ed esterna con semplici operazioni che comunque vengono indicate nel libretto di istruzioni. Tutte le operazioni devono essere fatte comunque da personale specializzato visto la pericolosità dell'apparecchiatura che ha un funzionamento anche a volte ad alte temperature e con il vapore o d'olio diatermico. Il personale specializzato si procurerà anzitempo ricambi originali per rimettere correttamente a nuovo diciamo l'apparecchiatura stessa. Non pulire gli scambiatori di calore può portare a non solo un deterioramento e un abbassamento del rendimento ma può causare anche rotture che possono provocare danni a persone o cose. pertanto al di là di dover mantenere attiva la garanzia o per rispetto delle normative vigenti è importantissima la manutenzione di queste apparecchiature. Vediamo comunque le cadenze con i quali devono essere fatte queste manutenzioni. Diciamo ogni sei mesi dovrà essere fatta una pulizia e un controllo del serraggio delle flange e delle tubazioni. Ogni anno o due anni al massimo deve essere fatta una pulizia interna ed esterna dello scambiatore e ogni dieci anni deve essere fatta una prova di integrità che verrà fatta comunque in collaborazione con l'ente esterno con linee in questi casi. troverete comunque tutti i dettagli e le operazioni da seguire all'interno dei nostri libretti di manutenzione dove ci sarà uno spazio apposito per apporre la firma ed è la data della avvenuta manutenzione. Per ora è tutto vi ringrazio di averci seguito spero che il video vi sia piaciuto mettete mi piace in questo caso e azionate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita. È tutto grazie a presto